Mancano le strutture e le professionalità per fare vera prevenzione in Italia. L'affondo arriva da Antonio Giordano, direttore dell'Istituto di Ricerca Sbarro di Filadelfia. Non usa a mezzi termini l'esperto di ricerca sulle malattie oncologiche, che se la prende con la gestione politica della sanità e dell'ambiente. Il problema è tutto lì. Si cerca lo sponsor, colui che può portare voti, non chi può realmente fare ricerca, cultura e prevenzione. Non abbiamo neanche le competenze per poter risolvere questo problema. Perché questo? Perché il maggior responsabile di tutta questa situazione è in una politica che ha influenzato anche le cariche istituzionali importanti, come primariati, come organizzare una serie di situazioni nei presidi ospedalieri, senza minimamente guardare alla meritocrazia e alle esigenze dei cittadini del territorio che soffrono e non sanno dove potersi rivolgere. Se si rivolgono a queste strutture, non trovano il programma medico strategico giusto. Si rischia così di portare avanti iniziative finalizzate al farsi solo autopromozione. Sembrano quasi che queste iniziative siano degli spot politici, forse anche in buona fede alcune, però senza nessuna logica e senza nessuna razionalità. Una strategia da attuare immediatamente per fare davvero ricerca e prevenzione potrebbe essere quella del biomonitoraggio, test che identificano la possibile presenza di sostanze tossiche nell'organismo dei campani. Non esiste. Addirittura le strutture, le ASL e altre strutture, hanno quasi paura di attivare un programma del genere perché li renderebbe responsabili dell'eventuale danno. Ecco, si è creato anche questo paradosso, perché se si tende sempre ad ostacolare, a coprire, a ostacolare, a coprire e evitare di risolvere il problema, ma poi quando il problema realmente si deve risolvere tutti quanti cercano di coprirsi a vicenda. Un suggerimento che gli statunitensi hanno colto al volo. Il Dipartimento della Difesa americano ha immediatamente finanziato azioni concrete in favore dei militari che operano nelle basi NATO partenopee. Gli italiani e in particolare i responsabili campani della sanità e dell'ambiente, insieme all'intelligenza locale, hanno invece fatto e voluto l'inverso. Si è stati testimoni di una faida, in cui sono stati un po' coinvolti tutti, sono stati coinvolti i colleghi sui giornalisti, sono stati coinvolti i medici che vedevano in pericolo la loro attività privata, le loro connessioni, le loro speculazioni private. Sono state coinvolte tante professionalità. Quindi, come si può ben capire, non è il problema di avere uno schiavone. Io penso che i maggiori ostacoli li abbiamo avuti da una classe culturalmente elevata. E mentre negli Stati Uniti i cittadini sulla soglia dei 50 anni sono quasi obbligati a sottoporsi ai screening oncologici, in Italia si stenta ancora a causa di una mancante ed errata pianificazione. Le strutture che esistono in queste zone sono strutture che non hanno la capacità di poter, né di ricerca, quindi né intellettuale, né clinica, di poter arginare l'emergenza.